Parla di calcio, oggi non si parla di calcio perché sinceramente cosa vogliamo parlare di calcio, assolutamente no Oggi si parla della casa di carta, oggi in questo video voglio parlare della casa di carta Ho finito di vederla proprio ieri, ci ho fatto le due di notte quindi nonostante questo sono bello lucido Per raccontarvi, senza spoilerare tranquilli, odio chi lo fa, figuriamoci se lo faccio io Per raccontarvi la mia esperienza nell'aver visto la casa di carta in queste otto puntate che appunto raggruppano la quarta stagione Allora, io prima di guardare la serie tv come sempre mi informo, senza ovviamente andare a leggere quello che accadrà Ma mi informo un po' delle recensioni, delle opinioni su questa serie tv e tutti sinceramente prima che io lo guardassi Ho letto sempre delle buone recensioni, dei buoni feedback e quindi mi aspettavo di vedere una serie tv degna di queste opinioni, di queste recensioni Purtroppo devo dire la verità, io non sono certo un esperto cinematografico per l'amor di Dio e nemmeno voglio esserlo Però sinceramente mi aspettavo molto di più, cioè mi sembra a me che si sia snaturata completamente la bellezza di questa serie tv Che era la semplicità, l'intelligenza ma anche la semplicità del professore che è diciamo il fulcro di tutta la stagione, di tutte le stagioni della casa di carta Il protagonista principale che appunto è un uomo mite, un uomo che se lo vede al bar e dice non lo vedi nemmeno Non lo noti nemmeno, che però ha un'intelligenza incredibile Ecco, si è snaturata questa semplicità con delle sparatorie megagalattiche Con degli effetti speciali degni del peggior James Bond o di Mission Impossible Cioè, no, la casa di carta è bella per questo E poi vi dico una verità, cioè, ora, va bene tutto, per l'amor di Dio Ma io fossi un poliziotto spagnolo, mi girerebbero parecchio le scatole Dio, ma cazzo, ma ci state ridicolizzando Cioè, esce fuori un messaggio per la polizia spagnola, va bene Che, insomma, voglio dire, anche no, una categoria di poliziotto Io credo si stia rivoltando dopo aver visto questa serie tv Però, a parte questo, sinceramente, io non ho visto niente Non mi è piaciuto niente della casa di carta 4 Che, all'ultimo secondo dell'ultima puntata, come sempre, ci lascia il fiato a sospeso Ci sarà una quinta serie, forse addirittura, leggevo stamattina, addirittura forse una sesta È chiaro che ora, con questo coronavirus del cazzo, siamo tutti fermi e nessuno può fare niente Quindi, le riprese che magari ci dovevano essere in questo periodo Chissà quando le faranno, si protrarranno, chissà tra quanto Quindi, la casa di carta 5 uscirà, boh, non è impossibile saperlo Però, a parte questo, sinceramente, tornando al discorso Tornando proprio a parlare della casa di carta Sinceramente, io mi aspettavo molto di più Cioè, a me, di queste quattro stagioni Viste, le prime due, meravigliose Mi hanno fatto innamorare di questo format Mi hanno fatto innamorare di com'è anche strutturata Poi, però, già la terza scricchiolava la quarta Cioè, quella che ho appena finito di vedere, anche no Cioè, non si può snaturare totalmente una serie tv come questa E addirittura con questi flashback che vanno, secondo me, ad allungare il brodino Ma anche no Ma anche no Cioè, se mi dai delle indicazioni sui protagonisti Se mi fai capire delle cose in questi flashback Allora sto zitto e dico, ok, va bene Servono a capire la personalità di questo personaggio Servono a capire la personalità di quest'altro personaggio Ma se questi flashback mi allungano semplicemente i minuti E allungano la suspense, eccetera Ma non ci danno fondamentalmente nessuna indicazione Ma che cazzo li mette a fare? Ragazzi, produttori della casa di carta Ma cosa li mettete a fare? Se non ci sono motivi per mettere delle cose Non si devono mettere Ma questo in una serie tv, ma in generale Questo è quello che penso io, eh Questo è quello che penso io Per cui, diciamo che ci sono delle situazioni surreale E questo mi dispiace davvero perché i produttori, come vi dicevo Hanno anche un po', come dire Snaturata anche la figura del professore Come detto, è una persona mite Ma molto astuta e intelligente Ma cavolo, in questa serie sembra di umano un extraterrestre Con un'intelligenza artificiale del 600% Cioè, da una stanzina, da un buco di una stanzina Controlla il mondo intero Anche no, non è possibile E intercetta tutte le comunicazioni E manda in due secondi una persona dalla Spagna Dall'altra parte del mondo E quella e quell'altra Cioè, anche no Anche no Cioè, cercate Avrei cercato di renderla più realistica Questa serie tv E non un l'ennesimo Come dire, format L'ennesima serie tv Dove ci sono troppi effetti speciali E poca sostanza Ecco, troppi effetti speciali E poca sostanza Ci saranno nuovi ingressi nella casa Ci sarà chi uscirà Quello come se Cioè, c'è sempre Ma, voglio dire Questa rapina Fosse vero Durerebbe due o tre giorni Cioè, durerebbe pochi giorni E qui ci si vuole fare quattro stagioni Va bene La seconda, la terza, la quarta E la quinta Cioè, quattro stagioni Per una sola rapina Di due o tre giorni A me sembra un po' troppo Però, ve l'ho detto Io non sono un esperto Voglio sentire Voglio leggere I vostri commenti Sotto al video Fatemi sapere che cosa ne pensate Vi saluto E speriamo presto Di poter riparlare Di calcio, di serie tv Di quanto ci possiamo permettere di fare Ciao a tutti A presto